Buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo incontro del bicchiere della staffa. Questa sera sono in compagnia di Viviana Locatelli, che ha scritto un libro in uscita domani, Per sempre Gio, un goal oltre all'autismo. Sono molto contento che tu sia con noi, Viviana, benvenuta. Ciao a tutti. Questo è un libro che a noi sta molto a cuore, un libro che ha toccato molte corde, sia prima di arrivare alla nostra casa editrice, sia quando lo abbiamo conosciuto. Viviana, io lascio subito la parola a te con una domanda che secondo me è basilare, per iniziare, cioè chi era Gio? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, Gio era un ragazzo come tutti, solo che era più bello degli altri, era molto più bello. Era un bambino che aveva tantissimi sogni e voleva fare tante cose, ma purtroppo con il tempo tutti questi sogni si sono un po' affievoliti a causa purtroppo dei comportamenti di noi umani perfetti che non sappiamo capire la bellezza di questi ragazzi. Perché Gio era fin da subito, fin da appena nato, gli è stato diagnosticato una forma di autismo. Sì, è nato con una patologia, perché i ragazzi autistici, non è che nascono autistici, si scopre, diciamo, dopo. Però Gio è nato con una patologia che poi ha portato ad avere uno spettro autistico. È un ragazzo verbale, perché l'autismo spazia, quindi ci sono ragazzi che non parlano, mentre ci sono ragazzi che invece, come Gio, parlavano e anche tanto. l'aveva preso da me. Come dicevo, Gio è sempre stato un ragazzo molto positivo, sempre sorridente. Lui non mollava mai, anche se la vita per lui non era semplice. Lui aveva questa capacità di trasformare le cose brutte, anche a volte in cose belle. E questo libro, io penso che ne sia la conferma, perché comunque io penso che non sia... È un libro di speranza, è un libro pieno di speranza. Anche se non ha un lieto fine, Gio deve trasmettere qualcosa, deve lasciare qualcosa. Perché per me è stato difficilissimo salutare Gio e dirgli addio. Perché Gio purtroppo è mancato a fine 2020, novembre 2020, a causa delle complicazioni del Covid. Ha soli 26 anni. Esatto. Diciamo che la parte tua nei confronti di Gio c'è sempre stato, mi dicevi un po' anche, un processo di accettazione. C'è un'accettazione quando si viene a conoscenza di una patologia di quel tipo e c'è poi anche un'accettazione che tu hai dovuto compiere alla fine della vita di Gio. Quindi c'è un inizio, c'è una fine che poi ha portato a questo libro. Sì, anche perché comunque è solo con l'accettazione che si possono affrontare le difficoltà, qualsiasi difficoltà. Fino a quando non la si accetta non si può fare nulla. E questo è iniziato quando è nato Gio, perché quando ti nasce un figlio che ha una patologia, puoi iniziare con lui un percorso solo ed esclusivamente quando accetti la sua patologia o la differenza che c'è tra lui e tutto il resto del mondo. E solo in quel momento tu puoi veramente iniziare a fare un percorso con lui, perché loro sono sensibili, sono delle persone sensibilissime, quindi capiscono perfettamente chi hanno di fronte, anche chi non parla, anche chi non è verbale, capisce perfettamente se viene accettato o se non è accettato assolutamente. Quindi la prima cosa è sicuramente quella di accettarlo e di vivere con lui, di iniziare questa avventura, perché è un'avventura, non si sa che cosa succede, è proprio un'avventura. E tu ce la racconti molto bene, perché dal tuo libro comunque... Sono dei momenti bellissimi, ma ci sono altri momenti molto difficili. È come quando leggi un libro appunto o guardi un film, ci sono sempre, c'è un po' di suspense in tutte le cose, no? E loro sono sono dei ragazzi particolari. Sì, comunque tu con Joe hai vissuto appunto i momenti più belli, più legati alle sue passioni, magari, che erano tante, erano soprattutto legati allo sport. Sì, erano spiegatato dell'Inter. Sì, l'Inter è venuto, diciamo... più tardi, sì, sì, un po' più tardi. Però il calcio per lui è sempre stato una grande passione. Il pallone era quello che muoveva tutti i suoi istinti primitivi, proprio. Qualsiasi pallone, dalla pallina di tennis a qualsiasi palla, qualsiasi cosa che... E tu quindi li hai vissuti sia questi momenti molto belli di passione, di gioco, di... Però poi ci racconti anche tante, tante difficoltà che ovviamente sono all'ordine del giorno in queste situazioni. Mi è un po', diciamo, mi ha sempre colpito un po' l'obiettivo che tu hai posto un po' con questo libro, no? Il fatto di far sì che magari qualcuno, leggendo questo libro, si avvicini a un altro ragazzo come Joe, gli tenda la mano, gli parli, magari pensavo io anche giochi a pallone con lui, perché no? E tutti sono diventati amici di Joe, Joe non aveva neanche un amico, cioè, è pazzesca questa cosa, ed ora... È la forza di questo libro, con questo libro sei riuscita a donarli tantissimi amici che prima magari non l'avrebbero guardato. Sì, e penso che chiunque abbia letto questa storia o leggerà questa storia perché la domanda è finalmente nelle librerie, grazie a voi, penso che diventerà suo amico, penso che toccherà il cuore dei lettori e penso che diventare amico di Joe significa un po' diventare amico di tantissimi altri ragazzi come lui, che magari, appunto, stanno aspettando che qualcuno li veda, perché sono dei ragazzi invisibili, sono dei ragazzi che non hanno visibilità, loro e le loro famiglie, non soltanto loro, perché comunque ancora questa cosa non è cambiata, quindi io spero che questo libro sia anche un cambiamento perché se tante persone è vero che sono diventate amiche di Joe potrebbe anche succedere che leggendolo un giorno loro possano riconoscere Joe in un altro ragazzo e dire perché non lo invito a fare una partita a calcio al campetto oppure lo porto allo stadio, lo porto al cinema e questo secondo me è uno degli obiettivi più grandi. Poi ne abbiamo altri, abbiamo quello magari di fare arrivare il libro nelle scuole perché poi si parte dai ragazzi, dai bambini, no? Perché chi leggerà questo libro vedrà che Joe quando era piccolo aveva un amico, aveva anche tanti amici, la nostra casa era piena di bambini al pomeriggio però poi con l'adolescenza sono spariti tutti e quindi esatto, probabilmente i bambini sono un po' più sensibili a queste cose. a dare questo messaggio secondo me è importante perché è dai bambini che parte tutto così come è importante fare in modo che lo possano leggere anche i loro genitori perché i bambini imparano dagli esempi e quindi magari un genitore che che decide di adottare come amico un ragazzo come Joe farà crescere il proprio figlio in una situazione di cambiamento. Sì, assolutamente. Penso che sia così. Comunque sulle scuole ci stiamo lavorando quindi un progetto in cantiere che piano piano stiamo tirando su e volevo ritornare un pochino anche all'altro fulcro di questo libro che è quello che forse più di tutto oltre a te che è la tua famiglia che siete stati onnipresenti che ha aiutato più di tutto Joe che è stato lo sport sia quello passivo diciamo guardato in televisione una passione quella dell'Inter ma soprattutto quello giocato lo sport giocato in campo è vero e mentre leggevo il libro e uno mentre legge il libro legge tutte queste difficoltà che si è andato incontro e poi ci sono stati dei sprazzi di luce cioè queste persone che magari ha incontrato Joe avete incontrato voi nella vita e che lo hanno davvero aiutato hanno cambiato la sua quotidianità perché nel momento in cui un ragazzo come Joe non ha amici non ha momenti in cui condividere con qualcuno questa passione per il calcio e trova per esempio gli insuperabili sì grandissimi quello ti cambia la vita sì in un modo che noi non possiamo forse neanche immaginare esatto scusate io penso che gli insuperabili abbiano una filosofia che è che è pazzesca è bellissima perché loro non non lavorano sulla vittoria o sul è una cosa molto ludica la loro cioè loro lavorano sulla squadra e sugli obiettivi dei ragazzi che non è per forza la vittoria Joe voleva sempre vincere io credo che lui volesse vincere perché in realtà lui si sentiva che perdeva nella vita sì sì una ribalsa sì sì esatto quindi per lui vincere vincere a calcio piuttosto che anche a memory era come dire no però io sono forte io sono figo no perché lui voleva essere figo lui non voleva essere autistico lui aveva capito perfettamente che questa cosa lo penalizzava questa è una cosa che mi hai sempre raccontato e che mi ha sempre colpito molto cioè comunque la grandissima consapevolezza di Joe esatto perché era penalizzato era un limite che lui aveva e quindi anche quando io ci scherzavo perché in fondo se noi ci pensiamo siamo tutti un po' autistici no in tante cose cioè ognuno di noi ha quella fissa quell'ossessione no e allora magari quando lui si ossessionava su qualcosa dicevo vedi anche io ho la fissa sono anch'io autistico e lui diceva no no mamma io non sono autistico eh no no io non sono autistico io ho solo un problema all'occhio perché lui si difendeva così perché aveva capito che comunque quella eh quella difficoltà perché lo sentiva in giro gli creava un problema che non dovrebbe essere così non dovrebbe essere così anzi dovrebbe esserci molta più inclusione per fare in modo che loro questa difficoltà non la sentano poi vabbè questo è il mondo perfetto ovvio che non è così magari però sì a proposito di questo mi ricordo la presentazione che abbiamo fatto a Ivrea del libro quella signora che nel momento delle domande ti ha chiesto ma le persone che vogliono avvicinarsi a questi ragazzi che vogliono conoscerli che vogliono condividere con loro dei momenti dove lo fanno che cosa devono fare quindi lì mi sono anche un po' reso conto e anche dalla tua risposta sì che non lo sanno esatto è proprio una una mancanza è un una mancanza che che tutti noi probabilmente abbiamo e non so dettata forse dalla paura dal disagio che ci mettono alcune situazioni perché magari hanno paura perché in effetti avere a che fare con un ragazzo che ha una forma di autismo è come andare su un altro pianeta no è un po' come addentrarsi in qualcosa di sconosciuto quindi ci vuole un'apertura mentale molto 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 forte per poter dire ok ok adesso io preparo la valigia e vado dico Marte perché io dicevo sempre che Gio veniva da Marte no perché era bizzarro quindi per me era veniva da un altro pianeta cioè per noi veniva da un altro pianeta però è è vero perché comunque eh hanno delle cioè loro sentono e vivono le cose in maniera differente per esempio faccio un esempio ehm un odore un rumore può creargli davvero un problema grande per cui magari stanno facendo una cosa che gli piace tantissimo e quell'odore o quel rumore gli dà talmente fastidio che non possono andare avanti a farla infatti si tappano le orecchie piuttosto che magari saltellano o magari ehm mettono in atto delle stereotipie no e magari uno è spaventato da questa cosa perché dice oh madonna cosa è successo non è successo niente per noi non è successo niente certo ma per loro no e quindi entrare dentro questo mondo fa paura fa paura però può essere anche una svolta nella vita di chi entra in quel mondo mi spiego ogni volta te la cito questa cosa perché c'è alcune cose di questo libro che veramente non mi tolgo dalla testa un'altra è quando racconti di questo suo primo allenatore di calcio che è un po' il classico allenatore di calcio magari un po' burbero un po' che punta alla vittoria che si sprono ragazzi da rozzano calcio ok e Joe aveva questa sua sì possiamo chiamarla fissa come ce ne sono molte altre che quando cadeva per terra in una scivolata o altro si sporcava le mani nel campo andava subito a lavarsele certo non è che l'azione potesse potesse continuare lui no no assolutamente qualunque momento della partita con la palla in gioco e tutto prendeva andava a lavarsi le mani e l'allenatore che le prime volte rimaneva costernato davanti a questa situazione e invece poi che cosa ti ha detto che cosa ha vissuto l'allenatore eh no lui siccome i ragazzi avevano capito meglio di lui esatto esatto erano stati in grado i ragazzi di accettare questa cosa e gli dicevano ma mister vabbè ma se lui ha bisogno di lavarsi le mani ci fermiamo quindi erano stati molto accoglienti su questa su questa forma di Joe no anzi alcuni sorridevano capito e Joe stesso diceva no no devo andare a lavare le mani devo andare a lavare le mani quindi chi aveva il problema era lui era lui che non riusciva nei suoi tempi a fare tutto quello che aveva eh stabilito no poi un giorno mi ricordo che mi disse ma me l'ha detto dopo anni eh non me l'ha detto subito mi ha detto guarda Viviana io ho imparato tantissimo da Joe non è che è stato lui a imparare da me sono stato io a imparare da lui perché ho imparato ad essere tollerante ho visto le cose in maniera diversa e quindi io credo che comunque eh ragazzi come Joe possano veramente insegnare assolutamente sono una ricchezza non sono eh una vergogna per questo bisognerebbe fare eh informazione per fare capire che loro sono una ricchezza che è figo avere un amico come Joe è su questo che io vorrei puntare e quindi insieme a voi questa cosa spero che che verrà fatta perché comunque è importantissimo che i ragazzi capiscano che crescere con una diversità arricchisce sì penso che perché è il futuro esatto sia come età i ragazzi sono quelli che possono rispondere meglio una l'accettazione di ragazzi come Joe ma anche proprio per i tempi perché comunque le nuove generazioni sono in tantissimi campi in tantissimi in tantissime situazioni diverse sono molto molto più tolleranti molto più aperti ma poi nascono più bambini che hanno problemi adesso cioè nascono tantissimi bambini che hanno che sono nello spettro autistico non lo so al motivo non sono un dottore non sono però ne sento tantissimi sono aumentati in modo molto importante e quindi è giusto che che possano vivere in maniera più migliore credo assolutamente sì volevo ancora un po' agganciarmi visto che stavamo parlando di tolleranza di insegnamenti ad altri momenti del libro che mi hanno ce n'è uno in particolare forse quello che mentre lo leggevo mi ha proprio un po' destabilizzato anche nel senso che è un momento in cui Joe chiama suo papà che se non ricordo male non era riuscito a sostenere la situazione di Joe e il padre attacca il telefono e Joe ti guarda e ti dice mamma non lascia stare papà hai fatto così quella quella è una per me è stata una bordata perché probabilmente il 99,9% delle persone sulla faccia della terra si sarebbe arrabbiata avrebbe provato rancore rancore frustrazione rabbia avrebbe provato una quantità di emozioni che forse non possiamo capire invece con una calma serafica Joe ti ha detto una frase del genere che penso sia l'apice della tolleranza dopo che tuo papà non è riuscito a sostenere la tua situazione e non ti parla al telefono ma io credo che Joe in qualsiasi momento l'avrebbe incontrato in strada o in qualsiasi momento lo incontrerà io penso che lui lo accoglierà perché Joe non aveva non provava rancore non sapeva neanche che cosa fosse sì esatto è proprio quella sensazione era puro Joe era una persona bellissima quando dico che Joe era un ragazzo come tutti soltanto più bello è la verità è questo perché lui aveva una bellezza straordinaria straordinaria è vero è proprio questo lui non riusciva a tenere assolutamente eppure era esplosivo in alcune situazioni perché se perdeva l'Inter io dovevo rifare tutti i bicchieri in casa no sì 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 non rimaneva più nulla dovevo stare attento dovevo veramente a volte o quando buttava la finestra le magliette sì piazza pulita perché dico adesso sta perdendo mi preparavo capito mi preparavo mettevo via il computer i telefoni tutto anche questa è gestione della situazione esatto quindi lui era abbastanza esplosivo in certe situazioni però non era in grado di tenere di avere rabbia o di cioè dopo chiedeva scusa subito cioè io non sapeva mentire non sapeva spesso spesso dici che tutti sapevano tutti quanti a scuola sapevano tutti i fatti miei io gli dicevo Gio non andare a raccontare questa cosa per favore no no ma vabbè comunque lui era sì è proprio la purezza la purezza totale volevo ancora chiederti una cosa chiederti dirti che abbiamo parlato dello sport come il potere dello sport che poi è quello il vero valore aggiunto dello sport unire le persone creare con legami perché comunque già si è fatto tantissimi amici poi nella squadra di calcio nella squadra di basket esatto sono poi i rapporti che sono rimasti se quella è la forza dello sport poi c'è la forza dei libri che la forza delle storie e il tuo libro dal momento in cui lo hai scritto lo hai autopubblicato perché prima di noi prima che arrivasse a noi tu l'avevi autopubblicato in pratica ti ha fatto conoscere una marea di persone che si sono bellissime bellissime che si sono amiche di Joe si sono appassionate a tuo figlio sostanzialmente e e quindi che cosa è successo dopo questo libro ha fatto tutto lui ha fatto tutto Joe credo credo che ha fatto tutto lui perché io ero nel baratro proprio io ero in una situazione in cui non avrei mai creduto di potermi rialzare e un medico mi ha detto scrivi tutto perché non c'è un altro modo per aiutarti non è che potevo andare a fare andare dall'analista cosa gli dicevo cioè non esiste neanche la parola di quando perdi un figlio neanche sul dizionario come ho sempre detto e quindi scrivere mi aveva aiutato ed è stato proprio Joe a dire mamma fagli vedere chi eravamo cioè io credo che la forza sia stata questa che io proprio ho capito che che lui aveva bisogno di una rivincita perché in tante situazioni lui uso sto termine era un perdente era un loser e quindi scrivere di Joe e scrivere tutta la sua bellezza e farla vedere a tutti era una una forma di rivincita che lui voleva perché altrimenti noi due non staremmo parlando in questo momento io credo che lui questa cosa la volesse profondamente perché era invisibile oggi lui non è più invisibile oggi è addirittura su un muro raccontaci raccontaci però è un muro particolare perché perché è il muro di una palestra di crossfit dove dei ragazzi dei writers hanno deciso di dedicare questa facciata a Joe per l'inclusione sportiva che è una cosa bellissima ma questa palestra di crossfit io ci sono stata ieri sera a vedere work in progress perché vabbè sono passata a vederla ma è piena di energia è bellissima dentro c'erano tutti questi ragazzi fighi con tutte le moto fuori e lì fuori c'è Joe cosa c'è di più bello di questo cioè tutte queste cose non sono arrivate perché io ho fatto in modo che sono arrivate naturalmente è come se ci fosse qualcosa che ha portato a questo e secondo me questo qualcosa è la volontà di Joe di essere visibile esatto sì stavo pensando anch'io è semplicemente tra virgolette raccontare la sua storia cioè far sì che le persone anche a distanza come in questo caso conoscano Joe esatto esatto quindi chissà quanto potrebbe essere ancora più forte dal vivo cioè conoscere un ragazzo esatto dal vivo che è così che ha queste poi Joe aveva un senso dell'umorismo pazzesco io mi ricordo no no ma ci sono dei momenti del libro divertentissimi aveva un senso dell'umorismo pazzesco aveva una cioè a volte non parlava tanto ma quando parlava a volte diceva delle cose che tu dicevi però però pensavo che non c'eri però c'eri ma cioè poi faceva finta che non sentiva no lui era sempre nel suo mondo fantastico però poi ti usciva con quella frase che diceva ma allora ha sentito tutto cioè era veramente era piacevole piacevole illuminante sì 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 è vero per noi è stata una scoperta meravigliosa posso solo dire questo noi continuiamo a fare questo percorso insieme a te sostanzialmente e ribadisco come ho detto all'inizio un libro che ci sta molto molto a cuore che ha tante tante qualità sia dal lato umano che che anche dal tuo da come l'hai costruito è veramente una storia molto molto bella divertente emozionante toccante a volte devo dire che che continuo a leggere io l'avrò letto 4-5 volte già quindi continuerò continuerò e piano piano mi segno tutti tutte le parti che che mi sono piaciute di più sono pazienta io ti ti ringrazio e visto che è il bicchiere della stappa io proporrei un brindisi a Joe che è qui con noi eh Alberto esatto esatto ci vorrebbero due bicchieri però lui non beveva lo fa adesso con noi a Joe grazie a tutti grazie mille a te per questa questo bel incontro questi questo racconto che ci hai fatto e grazie a tutti quelli che che ci ascoltano che ci ascolteranno e arrivederci al prossimo incontro del bicchiere della stappa grazie a tutti